Ti guardi intorno e vedi un mondo devastato. E quelli che oggi parlano di ecologia sono gli stessi che lo hanno depredato. Hai sempre creduto che la cosa più importante fosse essere autentici, anche se questo significa andare controcorrente. Il gaming non è uno sport. Bitcoin non è una valuta. Lo smart working non è lavorare. Il business non è etico. Sono stereotipi di un mondo che non ti appartiene e che vuoi contribuire a migliorare, anche con il tuo lavoro. Per te conta il saper fare. E quello che sai oggi lo hai imparato sul campo. Ma vuoi migliorare ancora ogni giorno. Per questo vuoi formarti con chi può darti le competenze più avanzate, ma nel rispetto dei tuoi valori. Perché tu il mondo lo vuoi cambiare davvero, insieme alle persone che ci credono, come te. Ninja. Unconventional business school. Ma��요. Filmuramboic. Allora. Follow принципе. оки. La AWS. Sei. Persono. Def nonprofits.